Capitali europee, ma soprattutto tanto mare. Sono state queste, secondo una ricerca condotta da TripAdvisor, le mete preferite dagli italiani per le vacanze del 2014. Dopo Londra e Parigi, che sono le capitali europee più ricercate, nonostante il clima decisamente bizzarro di quest'estate, il resto della classifica vede tutte destinazioni balneari. In primis la Puglia, con Gallipoli, Vieste e Porto Cesario, a seguire San Vitolo Capo in Sicilia e Villam Simius in Sardegna. Sembra che in tempi di crisi si accorcino le distanze delle destinazioni e forse anche la durata, a scapito di viaggi più lontani ed esotici. Ma sentiamo dove hanno scelto di passare le vacanze i maceratesi. Signora, dove è stata quest'estate in vacanza? Guarda, quest'estate siamo stati a casa, non siamo andati, siamo andati soltanto avanti e indietro, al mare e basta. Ma qui sono rimasto a Macerata e lungo la nostra costa, Porto Sant'Elpidio, Porto Recanati. E ho scelto di passare le vacanze a Porto Recanati. A Grotta Mare, poco perché non c'era tempo quindi abbiamo risolto così insomma. Ho trascorso una settimana al Monte San Vicino, che è sopra Piro e poi a Civitanova, semplicemente. E preferisce il mare o la montagna di solito? Guarda entrambi se posso, così godo di tutti e due i paesaggi, di tutti e due i climi, vario un pochino. Dove ha trascorso queste vacanze estive? A Cesenatico. Ha scelto quindi il mare? Sì. E mare o montagna negli altri anni? Sempre mare, montagna a zero, non ci piace. In Sardegna, otto giorni in Sardegna. Al mare solitamente va o preferisce anche la montagna? No, anche la montagna, però quest'anno abbiamo preferito il mare. Dove hai scelto di trascorrere queste vacanze 2014? Guarda, non ho fatto vacanze perché non avendo un reddito, non avendo uno stipendio fisso, comunque sia non avendo uno stipendio tale che me ne potesse permettere, non l'ho fatta. Tanti gli stranieri e i turisti che invece hanno scelto di visitare le Marche ed in particolare la provincia di Macerata. Di dove siete voi? Noi del Lago Maggiore, in Piemonte. E come mai avete scelto di venire a trascorrere le vacanze qui nelle Marche? Ma in realtà è stata lei che mi ha detto che non andiamo a vedere un po' le Marche, ho detto va bene, non le conosco, andiamo a vedere, ci stanno piacendo, sono piacevolmente colpito. Dove siete stati? Diciamo in tutta questa zona, stiamo a Civitanova, siamo stati a Loreto, siamo stati ad Ancona, diciamo un po' tutto sia a costa che a Introterra. Voi da dove venite? Dalla Toscana, a Rezzo. E come mai avete scelto proprio le Marche? Ma quest'anno volevamo fare un giro diverso e abbiamo scelto questo. E che cosa avete già visitato? Allora siamo andati all'abbazia di Chiaravalle di Fiastra e poi ci siamo fermati qui a Macerata e adesso continuiamo verso nord, quindi torniamo verso Ancona. Sono venuto qui vicino a Macerata, vengo ogni anno, andiamo sul mare qui sia a Portore Canati che a Civitanova Marche, poi proseguiremo con la Sardegna, quindi facciamo di solito una decina di giorni qui nelle Marche e poi andiamo in Sardegna. Da dove viene lei? Dal Friuli. Da dove venite? Noi da Genova. E come mai avete scelto proprio le Marche? Noi siamo diretti in Puglia, quindi abbiamo deciso di fare una tappa qua, io direi perché io personalmente non c'ero mai stata o c'ero stata quando ero molto piccola, tutti ne parlano molto bene, quindi diciamo che la mia motivazione è questa. Quest'anno abbiamo scelto il mare, poi provenendo da Genova che è una città di mare, ma per cambiare un attimino le nostre abitudini, poi abbiamo deciso di restare anche in Italia per dare un contributo, diciamo, all'economia locale, non andare all'estero. Grazie.